Ciao a tutti ragazzi, ho preso questo passaggio al mio bar, guardate costa 3.50, sono bellissimi questi trattolini, c'è questo con le rotine e gli altri. Ora riaprirò per fare la gara con mio fratello, mio padre oppure mia mamma, mio padre ovviamente adesso ha il lavoro e niente ragazzi, devo metterli, devo mettere tutto il pacco a terra e vedere se posso fare una gara e vincere. Ok, quindi mettiamo la gara e ragazzi, ditemi qua quale scegliere, scrivete i miei commenti, io preferirei scegliere questo azzurino, ispira. Ragazzi, ragazzi, non è andata bene, è la prima cosa che ho fatto. Ragazzi si chiama la scavatrice, è bello, questa è la scavatrice, ora vi faccio vedere come andrà, è andata con un sirene lontano, almeno 10 centimetri. Ragazzi, vi presento il mio fratello. E io vorrei fare il video con me, scrivete nei commenti se sarà bravo oppure no, non ho mai visto fare un video, quindi vi lascio voi la scelta. Ragazzi, facciamolo, allora io scelgo questo, è la scavatrice ragazzi, non penso a quanta velocità vada, ma penso che con questo vinceremo un bel po' di punti. Ho fatto una bella roviata. Io prendo questa scavatrice e voglio provare quando vado lontano e forse mi collezza. Bellissima. Ora ragazzi facciamo la gara, devo scegliere ovviamente la scavatrice. Mio fratello sceglie la mobilatrice. Non lo sapete che cos'è, neanche tu mamma lo so. E' un oggetto che non puoi scavare sulla terra, ma anche fuori. E' molto pratico. Ora devo vedere come sarà molto bravo la scavatrice. Oh, ha fatto anche il giro. Ha fatto una bellissima cosa. Ora si, e metteteci 400 like su questo video. E per la gara 20.000, per favore. E se siete iscritti a questo canale lo dovete iscrivere perché siete la nostra famiglia più bella e tutti. Ora, il mio fratello lo guarda. Uno. E' un uomo. E' un uomo. E' un uomo. 30. Ragazzi, scusatemi per il bisturgo. Stai tutti. Ma ora, vorremmo vedere il nostro gioco. Un sciolo. Ciao ragazzi. Eccolo qua, lui è il mio fratello che è sempre così. E' un uomo. E' un uomo. Bravo. E' un uomo. E' un uomo. E' andato lontano. Ciao. Ciao. Allora, amici, vi dovete iscrivere. E poi di seguo, scrivetelo e cominciamo a fare tanti video per voi. Allora, per il momento il mio fratello scelta il mio fratello. e faremo la gara. Chi vincerà? Allora, faccio iniziare, scrivete nei commenti e fate ascoltare E' stato bello, ci riprovo. Allora, per la mia coscienza, no, per la mia coscienza, solo che per stavolta ho vinto mio fratello perché sono riprovato, non ne vedo, sono ne troppo tanti, quindi mettete 5.000 like o per 400, 8.000 per questo video perché avremo altri video da farvi vedere. Ciao!